Ciao, sono Nicola Pastori, insegnante del corso CCR presso la Rock Guitar Academy. In questo video suonerò due assoli, uno rock e uno blues. Sono tratti dal mio programma didattico. I due assoli hanno uno stile e un tocco completamente diverso fra loro. Lo sviluppo di un buon tocco è uno degli argomenti più importanti che viene trattato durante il CCR. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione. Grazie a tutti.